Pronti a bloccare le procedure in autotutela se si dovessero riscontrare problemi nell'istruttoria, torna sotto riflettori l'ex clinica privata Villa Bianca al Nemorense in attesa di vedere cosa dirà il Tar del Lazio, ha parlato dell'attuale situazione l'assessore all'urbanistica di Roma Capitale Maurizio Velocia, quest'ultimo ha assicurato come gli uffici stiano ripercorrendo con attenzione i procedimenti che hanno portato alla chiusura della conferenza dei servizi che ha autorizzato la realizzazione di nuovi appartamenti da parte della Greenstone SICAF SPA all'interno dell'area parzialmente demolita nel 2006 dopo essere stata chiusa a inizio 2020 l'ex clinica era un punto di riferimento dei VIP romani, i lavori però si erano interrotti nel 2008 e da quel momento l'area era stata praticamente abbandonata nella svolta lo scorso aprile la società proprietaria dell'area aveva ottenuto la variante urbanistica che a lungo le era stata negata dal comune che grazie al piano casa regionale ha potuto sbloccare cominciando a lavorare sul cantiere, lavori che prevedono la realizzazione di due palazzine da sei piani, 144 appartamenti di cui 48 in housing sociale più alcuni esercizi commerciali ed è proprio da questa variante che i comitati ma anche il PD locale sono partiti per bloccare l'opera